Permettendo l'uomo, la natura ha commesso molto più che un errore di calcolo, ha commesso un attentato contro se stessa. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti al video che ho avuto capitolone 1084 di One Piece. Io mi limito soltanto a dire che ho pensato a una teoria molto, molto, non dico niente, sono le solite cazzate, tranquilli. Non stiamo qui a dire che potrei spoilerarvi il finale di One Piece, ovviamente, non mi permetterei mai. Ma comunque, a parte questo, è stato un bellissimo capitolo, c'è un'analisi tecnica da fare, ma soprattutto c'è questa teoria. E soprattutto dobbiamo sviscerare nei minimi dettagli anche ciò che dice Cobra. E soprattutto non dovete guardare i grischini che fa cagare, ma purtroppo non c'è neanche un po' di sole. È tardi e quindi con la luce viene sempre male i grischini, a meno che non rifaccio tutto da capo, ma mi rompo le palle. Quindi andiamo subito spediti con l'introduzione. Sì, signore e signori, grazie mille a Oda per averci fatto una cover da Holyfans. Io direi che ieri ci siamo divertiti abbastanza e devo andare avanti perché sarà un videocomento molto lungo. E Nami, ti prego, leva quella patata da lì perché non riesco... Ok, ok, ci siamo, perfetto. Se Nami apre un profilo Holyfans io mi scrivo. Sarà la prima volta pure che mi faccio il profilo Holyfans. Comunque, abbiamo delle robe da dire. Innanzitutto, stanno girando tante teorie. Grazie mille a tutti coloro che stanno scrivendo a me, a tanti altri, sul forum, ovunque. La semplice frase, vabbè, è ovvio, Lili è Im. Vabbè, è ovvio, Lili è quella che è fondata Amazzo Lili. Allora, se uno poi vede con calma, si vede che Amazzo Lili, quella di Amazzo Lili, è scritto con il katakana Lili trattino. Mentre invece il Lili detto da Im nel 1984 è Lilii. Quindi già il fatto che sono scritti diversi, giusto per dire, nel senso che non sto dicendo sia sbagliato, corretto. Però guardate che non è così semplice One Piece, insomma, tutto poi ci vuole una teoria dietro. Ok, Lili, mettiamo a casa fondata Amazzo Lili. Ebbè, perché? È la volontà della D? E zunisce il suo tradimento. Cioè, capito che dico, ci vuole tutto, no? Poi, altra cosa, attenzione anche all'idea che in generale, nella famiglia Nefertari, tutte le donne hanno questi nomi molto sillabici. Tipo Vivi, Titi, Lili. Quindi è anche questo un po' il giochino che ha voluto fare Ode. Attenzione, per chi non si ricordasse Titi, riveligetevi il capitolo 216. Dopodiché, di cosa parleremo? Parleremo ovviamente della parte introduttiva e anche quelle pagine in cui accade comunque, ragazzi, un evento sconvolgente. Cioè, probabilmente San Giallo è morto o comunque è stato fatto a pezzi molto peggio del pugno di Rufi. I trottari saranno molto contenti di quello che hanno combinato. Poi ovviamente iniziamo a parlare di Cobra, delle sue domande misteriose che portano alla volontà della D e portano ovviamente a parlare del regno di Alabasta e in conclusione anche di Im. Con questa teoria che volevo ovviamente condividere con tutti voi sarà la solita cazzata, mi sembra ovvio. Ma prima andiamo con l'analisi tecnica che comunque è molto interessante anche questa. Adesso vediamo perché. Il capitolo 1084 di One Piece, conferma tutto ciò che ovviamente ci eravamo detti, che è il penultimo probabilmente capitolo del volume. E prima di ritornare sui discorsi di Egghead e contiene queste novità sconvolgenti e tanto interessanti. Allora, si inizia in sordina. Ci sono solo quattro vignette. In prima pagina è molto bella, vignette 3 e 4. La successione è lato B, lato A di Bonnie. Ma soprattutto è bellissima la prima vignetta che non è una panoramica ma ci proietta direttamente sull'imboscata di Sabo. Molto bella questa. Pagina 2. Questa anticipa un po' il light motive del capitolo. Tante vignette confusionare. Sempre ben connesse tra loro. E in questo caso abbiamo di nuovo la panoramica iniziale saltata in prima pagina. Che è anche l'unica ambientale in vignetta 1. Che è anche molto bella questa qui. Questa cosa accade spesso. Anche se nel 1079, altro capitolo in cui Manco fa l'apposta, non si iniziava con la panoramica. Si iniziava col fatto che stavamo spiando, no? Quello che diceva York. Poi andiamo avanti. Qui arriva il primo piccolo capolavoro. Vignetta 1. Bellissima curatura di Sabo che prende in braccio Bonnie. Si nasconde. Ma soprattutto si apprezza dopo lo sguardo di Sabo sotto. Che guarda in una direzione. E vicino nella vignetta accanto c'è Mario Gioia dall'altra parte. Come se lanciasse la sfida. Mi è piaciuto molto questa cosa. Poi eccoci qua. Finalmente si va dal trono vuoto. Imponente come al solito. Due colonne laterali. I Gorosei come sempre ha i suoi piedi. E sotto i primi piani di sfida fra Cobra e alcuni Gorosei. E' solo un anticipo della pagina successiva con Man 13 Balloon di Dialoghi. Che non sono mai noiosi. Bravissimo. E anche grazie a certi giochi di sguardi, no? E tutta questa cosa di un Cobra che finisce quasi schiacciato dal trono in alto. I restanti tre Gorosei. Ma Cobra non demorde ragazzi. E incredibilmente nella pagina successiva è lui a dominare la scena. Per la prima volta. Prende un primo piano e sotto di lui per la prima volta i cinque astri. Chi li salverà? Chi andrà il loro soccorso che sono in grande difficoltà? E qui poi siamo a pagina 7. Riappare finalmente il dio di One Piece. Dove sta? Eccolo qua. Nella vignetta 3. Perché si riparte da lui sempre immerso ad amare la natura. Mentre ascolta l'umacofono. Cobra sta vincendo questo confronto. Gli sguardi di Gorosei in ultima fascia ovviamente lo confermano. Nelle vignette 4 e 5 la Oda fa una chicca di quelli assurdi. Sfruttando il fatto che già sappiamo come finirà la storia. Divide il primo piano di Cobra con una barra divisoria. Perché? Pensateci un attimo. Quella barra che ci azzecca sul volto di Cobra. E' un modo secondo me per indicare che il povero resta per essere bannato. Come direbbe Lulusa. Dopodiché si mette in pausa questa parte qui. Si riparte con una doppia super dinamica. Vignette molto ordinate. Le ultime del capitolo che sono così ordinate. E poi togliendo comunque il caos e le reaction. Ciò che conta è una grande scirocio al centro. E' quello stupido drago celeste di Charles l'in basso. Che come sempre è impietoso il confronto fra lui e Im. Per dire. Cioè lui è sempre un idiota messo lì in basso. Così sempre pronto a prendere. La pagina successiva è la solida ovazione del colpo laser di Kuma. Come accadde col colpo di S-Snake del 1078. Sempre questi giochi di chiaroscuro. Andiamo avanti. E poi si va verso il finale. Altro combattimento. Stavolta veramente tanto caotica. Nove vignette irregolari. E solo un anticipo per la colossale doppia di pagine 12 e 13. Con il colpo del drago celeste. Leo e Sai. Rufy sarà tanto orgoglioso di loro. Questo concept di come è strutturata la pagina. E' tipico di Oda quando veramente vuole fare questi effetti mostruosi. Con il colpo al centro. E tutte le reaction di entrambi gli scheramenti al lato. Un esempio. Pedro contro Tamago. 8-5-3. Se vi ricordate questo è un po' il concept di questo tipo di struttura della pagina. Questo per gli amanti di queste robe. Poi una penultima così non si vedeva da molto tempo. Molto caotica. Forse la più caotica vignetta della settimana. Che rappresenta bene anche dello strano abbraccio di Morley a Kuma. Ma il casino ovviamente di Marigioa è solo esterno. Perché poi dopo si ritorna a Marigioa. Tutto si ferma. Il tempo si ferma. Quattro vignetti in alto. E con la prima che vale il prezzo del biglietto. E sotto ben mezza pagina di Im. Che chiude trionfale sul trono. Pronto a condannare Cobra a morte. E c'è sempre quella scala. Quella scala di cui parlavamo la volta scorsa. Che simbolicamente rappresenta tanto. Che divide la verità dalla bugia. Con in mezzo chi la nasconde. Copra quella scala signori non la salerà mai. A breve la sua storia si fermerà qui. Ma una cosa è certa. Che in questo mondo. In quest'era. È arrivato qualcuno. Quel qualcuno che Roger stava aspettando. E noi su Strike Channel siamo qui per leggere la storia di questo qualcuno. Che è Monkey di Rufi. Sigla nuova. Diciamo che la sigla nuova è molto bella. Però era un po' affezionata alla vecchia musica. Potrei rimetterla. Però veramente grazie mille Gregorz per la nuova sigla. Che stavolta dopo due mesi mi sono ricordato di metterla. Allora andiamo subito sparati con ovviamente il discorso iniziale. Fino anche a parlare del discorso di Charles. Si riparte da questa Bonnie. Che ovviamente è un ottimo filo conduttore per poter tornare a Egoeddo. Il che secondo me preannuncia il fatto che a breve ritorneremo da Rufi. Bonny qui un po' diciamo così dice queste robe. So che sei degno di fiducia. Come se lei si fidasse. Non si capisce bene in realtà il rapporto che lei con i rivoluzionari. Perché poi è anche sorpresa. Comunque sembra che lei si fidi molto di Sapo. Perché? Forse perché già sapeva di quanto faccia uno schifo e ti è riubito. Quindi dice meglio comunque affidare mio padre a voi che a questi stupidi. E poi comunque le dice anche che non ritiene i rivoluzionari così amiche. Quella cosa strana. Ma se tuo padre era un rivoluzionario perché dice che non le troviamo i rivoluzioni. Vabbè ma questi sono quei giochini anche per fare un po' di dialoghi. Oppure potrebbe essere un modo per mettere un po' al centro la figura di Sapo. Perché? Perché Sapo è un personaggio che ricorda i legami con S e con Rufi. Perché Sapo è un nobile. Ma lui a differenza di questi nobili è un nobile buono. Eccetera eccetera. Ciò che conta comunque alla fine di tutta sta storia. Oltre a vedere di come Kuma viene preso da Morley. Le chiavi a Carasso. Tutto molto bello. Ma ciò che conta ovviamente è il fatto che un drago celeste viene colpito. Da due flottari di Monchi di Rufi. Un imperatore. Alcuni flottari di un imperatore colpiscono Re Charles. E probabilmente potrebbero anche averlo ucciso. Non si capisce bene nel capitolo. Dipende un po' dalle traduzioni. Ma ciò che conta è una cosa gravissima. Peggio anche di quel pugno. Ovviamente ci saranno conseguenze. Ovviamente potrebbe essere anche l'inizio di quella famosa crisi di cui parlavamo. Perché è un evento molto importante. L'uccisione di un drago celeste. Cioè ragazzi è una roba sconvolgente che potrebbe anche coinvolgere appunto i cavalieri celestiali. Attenzione. Comunque detto questo andiamo a parlare di quello che sicuramente tutti noi vogliamo sentirci dire. Allora, prima della teoria all'ultimo. Prima parliamo di questa roba qui. Andiamo a prendere ciò che dice Cobra e svisceriamo parola per parola. Perché principalmente alla fine non fa altro che ripetere un po' cose che già sapevamo. Allora lui dice, come ben sapete l'organizzazione nota come governo mondiale venne fondata 800 anni fa quando 20 diversi monarchi formarono questa nazione. Qui è molto interessante, come avevo notato sul finale della live, non parla minimamente di una vittoria al termine di una guerra. E non parla minimamente al termine di una guerra dopo la quale fu cancellato un regno dalla storia. Guardate che non è roba da poco, eh. Non è roba da poco. Quindi anche Re Cobra che è riuscito a conoscere alcune cose su questa principessa, questa regina di Nove Lili che teoricamente se non ha mai fatto ritorna dalla pasta, come cazzo ha fatto a sapere nove tizie su di lei? Probabilmente perché le ha tramandate il fratello. Unico che è tornato vivo da lì. Quindi sono tornato solo io, mia sorella chissà che fine ha fatto, e ha tramandato un po' la storia oralmente della regina Lili. Però vedete, alcune cose sono passate, altre no. Altre molto pesanti. Dopodiché andiamo avanti. Poi dice, questi però dipendono anche un po' dalle traduzioni, le loro famiglie si trasferirono al Manigia per vivere come un nuovo, unico clan. Attenzione che questo poi, tutte queste robe le rivediamo nella mia teoria alla fine. Parlo di draghi celesti che sono ritenuti creatori di questo mondo. In un'altra traduzione dice hanno plasmato questo mondo, hanno generato questo mondo. Comunque fatto sta, diciamo che se questo mondo è strutturato così, dipende anche da come loro l'hanno voluto fare quel giorno. I creatori del mondo, per me è il creatore. Comunque adesso vediamo. Comunque dice, e in quanto tale fin da allora hanno dominato sul mondo da loro stessi creato. Ora attenzione alla parola creare, che ci fa pensare che dal nulla schiocchi le dita e nasce qualcosa. Ma io posso anche creare un sistema politico, creare un tipo di equilibrio, creare un tipo di organizzazione che esclude alcune nazioni e altre no. Quindi poi attenzione alla parola creare, non per forza è divina. Comunque, già qui una cosa interessante, ma se io creo qualcosa, sia dal punto di vista divino, sia dal punto di vista di organizzazione, se io creo una repubblica in uno stato, ma poi ho il diritto anche di dominarlo? Cioè, come dire, che i padri fondatori della nostra Costituzione sono i terriubito dell'Italia che possono anche schiavizzare chiunque italiano, possono salirci in groppa e frustrarlo? Non credo né frustarlo, oltre a frustrarlo. Quindi, per dire, già un concept molto sbagliato è della Ghi celeste. Andiamo avanti poi. Per garantire comunque che nessun singolo dittatore sorgesse tra di loro, installarono il trono vuoto, ognuno di loro posa un'arma vicino al trono, per simboleggiare il loro vuoto di non tentare mai di sedersi su di esso. Sì, ok, tutto molto bello. Sembra quasi, come dire, la consacrazione della giustizia, se non fosse per il fatto che è una giustizia per loro. Come dire, ragazzi, noi venti dominiamo il mondo, cerchiamo solo di non litigare tra noi venti. Scusi, e tutti gli altri? Cazzo ce ne frega degli altri! Alla fine il trono vuoto è una cosa molto bella, ma che riguarda l'oro, non il mondo intero. Non è un sistema per rendere il mondo più giusto, al massimo un sistema per evitare di litigare tra di loro, o eventualmente, se proprio vogliamo, di evitare guerre, anche se poi, avendo abbandonato i regni e avendo messo in quei regni altre nazioni, beh, le nazioni possono poi benissimo scontrarsi tra di loro. Quindi vedete che il trono vuoto non è tanto un simbolo di pace mondiale, vista così, è un simbolo per evitare che litigano tra di loro. Comunque, andiamo avanti. Allo stesso tempo, nuovi regnanti vennero scelto per governare le nuove nazioni, tipo, no, Reriku, della famiglia Dold, Addressrosa, Dold, Addressrosa, dato che i fondatori non potevano più farlo. Anche questo è strano. Perché non potevano più farlo? Perché non potevano contemporaneamente un ramo della famiglia andare a mare giove e un altro ramo no? Io credo che sia voluta questa cosa. Sono stati rimossi da ciascuno dei venti regni, tranne ovviamente alla vassa, sappiamo perché. Questa cosa sembra quasi un indizio. Come dire, voi che venite qui, verrete però rimossi da lì. Perché? Qual era l'obiettivo? Qual era il rischio? Se anche un fratello, se anche un cugino fosse rimasto lì? Questa è una cosa da tenere in considerazione. Ma poi si arriva a questo punto. Che a me dà questa impressione, di questa idea di voler tenere lontani. Come se Imma avesse detto, voi adesso ve ne state qui. Lasciate le isole, non ci tornate mai più. State lontani dai Ponygrif. State lontani dalla verità. Evitate che qualcuno possa parlare di quello che è successo. Nascondiamo la storia. E alla fine i draghi celesti, in quest'ottica, più che sembrare questi cattivi di One Piece che devono essere uccisi e annientati tutti, sembrano quasi dei poveri bambocci, manipolati da Im. Cioè questo li ha presi da lì. Se li ha tenuti sotto sotto a Marigioa, li ha imbambolati con soldi, ricchezze, eccetera, per tenerseli sotto scacco. Sono dei deficienti, ignoranti, dominati da Im. Anche loro sono schiavi. Certo, se la passano e se la godono, ma sono schiavi alla fine, di un Im che controlla realmente il mondo. Chi è questo Im? L'aforismo della settimana, visto che adesso andremo a parlare del vero creatore del mondo, che è Im, è ovviamente di un grandissimo saggista, filosofo rumeno, questo andrebbe studiato tantissimo nelle scuole, perché lo adoro, Emil Cioran che disse permettendo l'uomo, la natura ha commesso molto più che un errore di calcolo, ha commesso un attentato contro se stessa. Sembile storico di discorso, come direbbe anche Vegapunk, l'uomo è il più grande azzardo della natura. Questa cosa è tra l'altro ripetuta in tante religioni. La Torre di Bavele è un esempio di quest'uomo che puntualmente vuole sfidare chi l'ha creato. Signori, prepariamoci, allacciate le cinture. La terrea arriva fra un po', però ci avviciniamo qui. Allora, chi è questa Lili? Iniziamo a parlare di questa Benedetta Lili. Allora, qui dice, ad eccezione, come direbbe Coppola, però del regno di Alabasta, perché a quei tempi il sovrano dell'Alabasta era la regina Lili nella casa delle Fertari, nonostante il suo nome, figuri come uno dei venti fondatori, le scese di non diventare un drago celeste. Sembra quasi di una persona che si rifiutava di accettare le condizioni imposte, secondo me da Im, però al tempo stesso qualcuno potrebbe anche pensare, soprattutto tutti quelli che stanno ripetendo a Pappagallo, Lili e Im, Im e Lili, Lili e Im e Lili, piuttosto doveva far ritorno ad Alabasta per proseguire il proprio regno. Ma non è che forse non ha voluto lasciare il regno perché aveva affiutato qualcosa? È buona o cattiva? Beh, qui dice anche che hanno deposto 19 armi, furono lasciate vicino al trono vuoto, però non hanno mai promesso realmente di evitare la guerra. E soprattutto nel momento in cui, quello che vuole dire Cobra, nel momento in cui lì manca la nostra spada, che è quella di Alabasta, significa che noi non abbiamo mai promesso di partecipare a questa cosa, no? Cioè 19 nazioni hanno messo la spada lì per dire noi la guerra tra di noi non ce la facciamo, voi 19 però? Noi no. Attenzione, i dettagli fanno la differenza. Poi, lui dice, ho spulciato tutti gli antichi testi, ogni racconto riguardo Lili, è scomparso. Il periodo appena successivo al secolo vuoto, il suo nome non viene mai menzionato. E qui c'è sempre questa doppia opzione, o è stata uccisa, povera Lili, oppure la colpevole, lei si è seduta sul trono, lei e Im. Dopodiché, ovviamente, qui si arriva al momento in cui Im decide di intervenire. È vero, che tra le 20 famiglie fondatrici in Evertare, non si trasferirono mai a qui a Marigioa, tuttavia, si credeva che la legina Livi fosse tornata dalla basta. Siamo spiacenti, ma i dettagli sulle motivazioni del suo viaggio, noi non le sappiamo. Qui ci fa capire, che i Gorosei non sono persone eterne con l'opeope, che vivono da chissà quanto tempo, sono semplici terriubito, che sono stati promossi a draghi celesti, probabilmente anche lottatori, qualcuno dice ex cavalieri celestiali, e che comunque, attenzione, loro o veramente non sanno, oppure fingono di non sapere, perché Im li sta ascoltando, e quindi non possono rischiare di spifferare. Quindi ciò che dico i Gorosei in questa risposta, purtroppo non possiamo prendere in considerazione, perché potrebbe essere anche una bugia. Ma andiamo adesso verso il sodo. Qual è il significato della D? Questa D no isci. La volontà della D. Perché la regina l'ha scritta? Quando l'ha scritta? Dove? Prima di sparire? Quando l'ha fatta questa D? La D, il fatto che sia stata lei a lasciare questo monito, sapendo benissimo, questo messaggio, sapendo benissimo, che la regina Lili, o meglio che la volontà della D, è naturalmente contro i draghi celesti, ci fa pensare che Im non sia Lili. Cioè, io non posso diventare Im e al tempo stesso creare qualcosa che vuole, di sua natura, distruggere i draghi celesti. È strano. Forse perché voleva autofermarsi un giorno, ne parlavamo anche ieri in live, e lei si è seduta sul trono, sapendo che prima o poi qualcuno la doveva fermare, no? Quel famoso discorso di quelle persone che sanno di essere potenti e sanno che devono anche prevedere la loro stessa distruzione. A me fa un po' cagare come teoria. E infatti, a proposito di teorie che fanno cagare, arriviamo ai dettagli. Innanzitutto, Lili è scappata da Marie Joa, è affondata Amazon Lili, non lo so. Comunque, se non vi fidate di me, andatevelo pure a cercare. Il katakana con cui è scritto Amazon Lili, è diverso da come è scritto Nefertari Lili. Quindi, adesso sto accentuando l'accento per farvi capire, comunque, questa differenza me basta. Dopodiché, che Amazon Lili possa chiamarsi così, va benissimo. C'è anche un personaggio che compare solo nell'anime, Lili Estomiak, come si chiama, lì l'anime non lo seguo, però per dire, no? Quindi, andiamo avanti. Ciò che invece è interessante nella versione giapponese del 1084 è questo. Innanzitutto, ReCobra, quando dice, parlatemi della volontà della D, cos'è la D, no? Lui utilizza, oltre alla lettera D, che guardate come è scritto in giapponese, muah, quanto è bello il giapponese, guardate quanto cazzo è bello. Scrivono, apri virgolette, D, chiudi virgolette. Mio Dio, quanto è bello il giapponese, senza quel cazzo di punta, il punto di merda che mettono sempre nelle traduzioni inglesi, francesi, italiane, tutte ste lingue del cazzo. Si scrive di, senza il punto, porca punta, ma quante volte lo devo dire? Si scrive senza il punto, vedete in giapponese come lo scrive? E non solo. In giapponese, guardate bene sulla destra, anche se non parlate giapponese, guardate i kanji, tipo nel balun di destra, vedete cosa fanno? Mettono un kanji, dopodiché, tipo il primo, wa, mettono un kanji, e poi vicino ci scrivono, anche in katakana come si legge, cioè, il kanji è come se fosse un disegno, tipo il disegno di una casetta. Vicino al disegno della casetta, poi ci scrivo in lettere C-A-S-A, casa, in modo che se un bambino non conosce quel kanji, almeno può leggerlo con le lettere casa. Guardate un po' che succede con la D, proprio come fosse un kanji, vicino, vedete, ci sono piccolini e piccolini, anche la scritta in katakana, che è D-I, 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 quindi ragazzi è pazzesco, è un kanji a tutti gli effetti, che poi non toglie, ciò non toglie che può benissimo essere anche l'abbrevazione di una parola, ma al momento, dalla versione giapponese, tutto appare fuorché questo. E poi, altra cosa, nel balun di destra, vengono utilizzati i kanji di messaggio. Messaggio. Quindi lui parla proprio che la D è un messaggio, una lettera, attenzione, anche lettera va bene, lo so che si parla di lettera, ma non lettera intesa come lettera dell'alfabeto, ma lettera intesa come messaggio, ok? Quindi questa è un'altra cosa molto interessante della versione giapponese, ma andiamo avanti. Quindi, cosa di nuovo realmente sappiamo? Perché alcune cose sono solo delle ripetizioni. Uno, che la volontà della D, se è stata generata, creata, dalla regina Lili, praticamente dopo l'insediamento a Marie Joa, in cui lei rifiutò di andare lì, significa che il governo, come disse il buon professor Clover, dopo quei cento anni, come per incanto, nacque il governo. Il governo e la D sono nati insieme, nello stesso momento, alla fine del secolo buio, alla fine dell'antico regno, cosa che copro non sa, ma ce la aggiungiamo noi. Poi, andiamo avanti. Lili, a questo punto, potrebbe essere la persona che ha fregato tutto e si è preso il trono, ok? Così come Lili, potrebbe anche essere la persona che ha scoperto l'inganno, e ha tramandato quindi la D ai posteri, prima di morire. Però è contro di queste due idee. Problema uno, se Lili fosse semplicemente la classica cattiva, che vuole fottere tutto il mondo, fottere i corosei, fottere le 19 altre famiglie che sono andate a vivere lì, è uno il classico cattivo. Perché Lili vuoi prendere, perché voglio dominare il mondo, essere ricca, è un po' palloso onestamente come cosa, non è che mi piacerebbe molto un cattivo cattivo. Poi altra cosa, ma i nefertari, che sono sempre sembrati tanto buoni, ma perché all'improvviso questa doveva essere così cattiva all'improvviso? E poi altro problema, se Lili fosse Im, avremmo già rivelato il personaggio di Im. Cioè cazzo ragazzi, un personaggio sul quale Ode si sta giocando praticamente, e tutto il restante marketing del manga, se lo gioca così, sul penultimo volume del 100, sul penultimo capitolo del volume 107? Ah se a proposito, cosa facciamo nel 1084? Beh, facciamo il pugno in faccia a Charles, diciamo pure che Im e Lili, vai a posto. Cioè ragazzi, oh, ma Im, così? Mamma mia, cioè calmi eh, calmi. Poi altro problema, però, se Lili fosse invece il personaggio buono, che fine fa in questa teoria il cappello di Vaglia? Come ce lo mettiamo? Perché poi Lili si sarebbe dovuta nascondere da tutti quanti, anche se fosse buona? Perché poi adesso Lili avrebbe dovuto distruggere Lulusia? Questi sono altri problemi che dovremmo porci, no? Quindi Lili è proprio bastardo, non cattivo, proprio bastardo. Poi altri problemi, se vogliamo creare una teoria a prescindere, dobbiamo pensare, ma Rufi e Tic, questo meraviglioso dualismo di questi due con la D, come lo spieghiamo in One Piece? Joy Boy, come lo spieghiamo? Anche il fatto che lì si trova la sua bara. Zunisha, come lo spieghiamo? Allora ragazzi, io ci provo eh, ci provo però qui, oltre alla parte che sembra un po' no, più qui sul discorso dei ganji, ma facciamo la parte che sembra un po' amaro. Intanto c'è pausa, se ci dilunghiamo, l'angolo della posta ce lo leggiamo in una live in seguito. Allora, io provo. Questa teoria si basa sul fatto che, io provo proprio a spiegarvi tutta la storia di One Piece adesso, si basa sul fatto che, ehm, tutto nasce da questa concezione. Partiamo da qui come base, dopodiché ognuno di voi può scegliere quella che vuole, non è un problema. Ci sono due possibilità, o One Piece è il classico manga giapponese biteista, Indra e Ashura, Ine Young, le due divinità, Amaterasu e Susanoo, Amaterasu e Tsukuyomi, oppure, vogliamo farla monoteista. Scegliete voi uguale, intanto questi sono dei dettagli che mette Oda. Im, ragazzi, come vi accennavo anche la volta scorsa, è Dio. Im è Dio, è la divinità creatrice, la Kaguya di Naruto. Lo so che parecchi stanno già vomitando, però fermi, dobbiamo poi arrivare al punto. È la divinità che ha creato l'ordine, ha creato la natura, ha creato il mare, ha creato tutti gli animali. Ovviamente, Oda per arrivare a questo, può benissimo poi inventarsi la sua storia del mito, può farla scendere dal cielo, come è arrivato Goku sulla terra, come è arrivato a Kaguya. Può ovviamente invece, pensare, ad esempio, nel biteismo potrebbe pensare che le divinità creatrici erano all'inizio Urano e Poseidone, Dio del cielo e Dea del mare. La loro unione nacque un Dio, o due Dei, dipende da voi se vi piace la versione biteista. La versione biteista è che nacque Im, divinità della natura, e nacque anche un altro Dio. Nica, il Dio della libertà, il fratello scemo praticamente, comunque Oda dovrà comunque metterci dentro il mito creazionista. Ma andiamo, avviciniamoci poi alle cose che ci interessano. Im, dopo aver creato la natura, aver creato le piante, aver creato gli animali, commise un errore. E questo è l'aforisma della settimana. La natura che si permette, questo grande errore, di aver creato l'uomo. L'uomo ovviamente è un animale un po' particolare, perché a lui è consentita più capacità cognitiva, fino ad arrivare anche alla capacità di un eccesso di libertà. Nacquero tuttavia diversi regni, diverse razze, diverse culture, alcuni uomini si insiedarono sulla luna, alcuni uomini divennero giganti, alcuni uomini colli di serpente, e l'umanità stava vivendo così. Ci siamo ragazzi, inizia la vera storia. Successe che un tempo nacque un regno. Ora, attenzione, dobbiamo parlare un attimo di Joy Boy, che lui ha dato via a questo regno. Vi ricordate il discorso monoteista-biteista? Allora, se preferite la versione monoteista, possiamo dire che Im ha creato il mondo, dopodiché, per sua natura, qui è un po' come l'architetto di Matrix, che non riesce a capire l'uomo, non riesce mai a dominarlo, perché l'uomo è imprevedibile, succede che questo dio monoteista che ha creato la natura, quando ha creato l'uomo, all'improvviso si rende conto che c'è sempre qualche uomo che sfugge dal controllo. E quindi Joy Boy è un semplice essere umano che però ha deciso di avere un sogno. Attenzione. Se invece preferite la versione biteista, allora sono due divinità, dio della libertà, dio dell'ordine, Im è la classica divinità che crea l'ordine, che crea la natura, però poi arriva sempre il suo fratello deficiente che si reincarna in qualche uomo, trasmette a quest'uomo e attraverso lui a tutti quanti, trasmette il seme della libertà e quindi Im puntualmente, ciclicamente, si ritrova a dover affrontare qualche uomo, che è praticamente la reincarnazione del fratello, che puntualmente ridistrugge tutto il suo ordine e deve ripartire da capo. Qui ragazzi, la scelta vostra a me al momento interessa poco, ma ciò che conta è che un giorno, circa 800 anni fa, un uomo decise di creare un regno. Adesso vi dico una roba, avete presente il sogno di Rufy? Il sogno di Rufy? Tutti si chiedono ma qual è il sogno di Rufy? Pensate che il sogno di Rufy potrebbe benissimo essere lo stesso sogno di Teach. Cioè, calcolando che i due praticamente fanno più o meno la stessa cosa, solo agli antipodi, ma talmente agli antipodi che sembrano quasi identici, il sogno di Rufy è quello di Teach. Creare un regno dove tutte le persone possono essere libere. Teach, dal punto di vista della pirateria, tutti possono essere pirati. Rufy vuole semplicemente un mondo dove tutte le persone possono essere libere, godere, fare quello che vogliono, festeggiare, non essere mai giudicati. Un regno in cui si è liberi, si è liberi di essere se stessi. Grande messaggio questo, un regno in cui tutti possono veramente sentirsi loro stessi. Joy Boy aveva creato questo regno. Così, perché gli piaceva, un regno di libertà. Aveva fondato questo regno e lentamente questo regno prende successo. Tra tutti gli altri regni, abbiamo detto che l'umanità si era divisa in tante razze, no? E allora succede questo piccolo particolare che in tutti questi regni nacque un regno in cui tutti potevano essere liberi, mai giudicati e felici. E tutti iniziarono a volerci vivere. Arrivarono grandi scienziati che venivano da quelle popolazioni della luna perché l'umanità si era anche andata a vivere sulla luna. Lì avevano creato grandi tecnologie, c'erano grandi scienziati che andarono a vivere in questo regno perché lì si stava bene. Ci andarono a vivere ad esempio grandi dottori, ci andarono a vivere i scienziati, i naviganti, tutti andarono a vivere in quel regno, i giganti, tante razze andavano a vivere lì. Perché? Perché lì si stava bene. Un regno che all'improvviso questa pubblicità di questo regno dove tutti erano felici, tutti potevano andare a vivere lì, era bellissimo. Tutti i regnanti ovviamente non è che l'ha preso bene. Figuratevi che ad esempio Zunisha decise di portare in questo regno i visoni che erano però animali e dovevano sottostare al volere di Im. Fu punito per questo. Dopodiché ad esempio anche gli uomini pesce non volevano più vivere lì sotto. Disse raggio poi possiamo venire anche noi nel tuo regno che lì si sta bene, lì nessuno è giudicato, il regno di libertà. Ciò poi ho detto certo qual è il problema vi preoccupate faccio costruire ai miei carpintieri una bellissima nave gigantesca chiamata Noa arrivò lì e vi porto tutti quanti nel mio regno. Fantastico. Ovviamente c'era un problema. I restanti regni erano molto preoccupati da questo. stavano perdendo i migliori scienziati i migliori carpintieri le migliori menti stavano perdendo anche normali cittadini che non pagavano più le tasse Im. Fu molto preoccupato da questo. Alla fine presero una decisione Im. Chiese ai regnanti di quelle appunto delle nazioni che stavano perdendo no? Tante persone tante menti eccetera disse alleiamoci tutti insieme distruggiamo questo regno ma dobbiamo anche fare in modo che di questo regno non se ne parlerà mai più dobbiamo cancellarlo dalla storia quindi in cambio io vi do un grandissimo premio un po' come Zeus nella mitologia greca no? Quando prende qualcuno che gli piace lo promuove in cielo come costellazione potrete venire a vivere qui insieme a me ed essere dei come sono io un Dio ovviamente i regnanti dei venti regni guadagnavano di tutto non soltanto potevano annullare questo regno maledetto poi si sarebbero aggraziati Dio in persona e potevano andare lì a vivere come degli dèi e finalmente proprio essere promossi a divinità cosa che poi li ha un po' fatti andare fuori di testa infatti alla fine non hanno voluto neanche più respirare la stessa aria no? degli esseri umani normali si sono tirata alla fine dopo 800 anni eccetera e quindi hanno deciso di distruggere questo regno solo ed esclusivamente perché volevano anche vivere come divinità e diventare dei un po' come succede a York no? diventare un Dio e alla fine il regno fu cancellato tutti furono distrutti Zunisha che è un animale fu punito da Im per aver disobbedito al Dio creatore perché Im può farlo ed ecco che l'ordine fu ripristinato nel mondo in questi regni ovviamente per essere sicuri che nessuno spifferasse la verità soprattutto la verità sull'esistenza di Im alla fine loro come diciamo punizione non potevano più far ritorno in questi regni tutto stava andando bene ma Joy Boy il re di questo antico regno fu portato al cospetto di Im lì a Marigioa ora che cosa accadde accadde che i 20 regnanti vincitori erano lì nella sala no Lili riuscì in qualche modo sapete l'ironia del destino ad assistere a questo incontro fra Im e Joy Boy ora qui ripeto siete liberi se volete vederla come la visione biteista quindi praticamente due divinità fratella e sorella a confronto oppure preferite quella monoteista tipo architetto di Matrix quindi Im creatore del mondo e lì rappresentante classico dell'umanità con la macchina che dice ma se è tutto così perfetto perché tu non ragioni secondo l'algoritmo di noi esseri perfetti e Joy Boy che dice ma sono un essere umano cioè più o meno il discorso è quello ok attenzione perché le parole che Joy Boy dirà a Im prima di morire le ripeterà ovviamente il protagonista cosa potrebbe mai dire Joy Boy Im potrebbe chiederti ancora tu sempre tu ma perché ti rifiuti di obbedirmi parole tipiche che potrebbe dire un Im sapete qual è la risposta di Joy Boy attenzione questo potrebbe essere il messaggio tramandato da Lily all'umanità questa potrebbe essere la volontà della D perché tu uomo ti rifiuti sempre di obbedirmi risposta di Joy Boy ma perché io sono un uomo e l'uomo è nato libero in quel momento nacque anche il frutto Nika Nika perché magari in quel momento il desiderio di libertà di Joy Boy fece generare il frutto Nika Nika oppure il suo desiderio fece generare un frutto che poi nacque quando Roger lanciò l'era della pirateria One Piece che cos'è oltre ad essere il regno stesso che probabilmente aveva un nome cioè Hitotsunagino Daikiko il grande tesoro che interconnette tutti gli uomini quindi regno di libertà se poi vi piace un po' la fantascienza One Piece potrebbe anche essere una sorta di grande scrigno del grande tesoro che contiene il bene più prezioso dell'umanità i sogni tema ricorrente di One Piece è lo scrigno che contiene i sogni di tutti gli uomini tutti coloro che andavano a vivere nell'antico regno depositavano nello scrigno i loro sogni un contenitore di sogni si possono fare tante teorie su questa storia comunque fatto sta che la libertà quel sogno di libertà fu lanciato Lili assistetta alla scena vide tutto disse no io non posso vivere qui io non posso pensare di aver davvero partecipato alla distruzione di quel regno e alla morte di quest'uomo che è un grande io mi rifiuto di tutto questo allora siccome fu sgamata ovviamente sarebbe stata condannata a morte prima di morire lasciò il famoso messaggio della volontà della D cioè la volontà di questo Joy Boy che appunto disse queste semplici parole sono un uomo quindi sono libero il messaggio della D è stato letto da tantissimi uomini poi se volete pensare anche alla fondazione di Amazzolilli vabbè fate voi tanti uomini hanno poi preso questo messaggio l'hanno interpretato come volevano ad esempio io potrei aver letto questo messaggio e aver deciso di tramandare a mio figlio questo senso di libertà se mi chiamavo Stefano P Stefano Pingopallino mio figlio si chiamerà Mario D Pingopallino cioè aggiungo la D nel nome e ovviamente ognuno poteva prendere la D come voleva imitando questo grande personaggio il messaggio della D potrebbe essere anche un breve racconto della storia di Joy Boy qualcuno potrebbe aver preso da Joy Boy la volontà di creare un mondo giusto e nacque gente come Garp qualcuno da Joy Boy ha tramandato la voglia di indossare un cappello di paglia quindi ne ha ricreato un altro e se l'è tramandato qualcuno ad esempio da Joy Boy ha tramandato la voglia di aiutare gli altri perché nel regno antico c'erano anche i grandi dottori lì nasce la volontà della D di Law qualcuno potrebbe aver tramandato la voglia di pirateria lì nasce Teach che diciamoci la verità è il vero pirata della storia e così via e che lentamente ognuno prende questa volontà della D qualcuno ad esempio ha la volontà di tramandare la storia e qui entra in gioco Sauro beh questa è un po' questa teoria su questo discorso che potrebbe essere avvenuto un regno di libertà un regno che stava sottraendo con i suoi ideali scienziati se uno mi dice è che tutta la tecnologia dell'antico regno beh grazie al cazzo stavano andando a vivere in questo regno le migliori menti la fuga di cervelli il grande tema che si può affrontare il discorso dell'energia ottimo tutte quelle grandi menti vivevano in quel regno e insieme vivevano talmente bene in armonia che alcuni scienziati pensarono anche dei sistemi di energia visto che praticamente un regno di gente che cazzeggiava perché alla fine mangiavano e bevevano gli scienziati crearono un sistema anche magari per generare energie in modo che tutti potevano continuare a stare bene era un regno che effettivamente si stava sviluppando alla grande il problema che tipo torre di babele stava sfidando però l'attuale ordine Im si era reso conto che tutto stava stava andando fuori controllo il regno antico andava fermato e andava cancellato dalla storia e qui nasce poi questo discorso della D io penso che ovviamente uno ci azzecca il 5-10% già è tanto però non è da escludere che la storia potrebbe andare un po' su questo filone qui ovviamente è un po' diverso dell'opw17 secondo cui l'anticoregno è cattivo perché io mi sono sempre chiesto ma se aveva 20 nazioni contro beh qualcosina di male l'avrà fatto però effettivamente se uno ci pensa è altrettanto vero che c'è il problema di questo meraviglioso messaggio di libertà che lancia Nika un messaggio diciamo di gente e poi ad esempio Nika è un personaggio che si era diffuso e tutti gli schiavi che andarono a vivere a Mari Gioa ovviamente lo veneravano perché poi si ricordavano di questo ring cioè oralmente si tramandavano comunque alcune leggende alcune storie è ovvio che poi Oda ci deve lavorare su ci lavoreremo tutti su un po' noi però comunque è una cosa divertente il One Piece è bello anche per questo ovviamente allora andiamo alle quote io avevo detto che si sarebbe tornato a Egghead ma era molto difficile che avremmo avuto una rivelazione importante questa era ovvio mi aspettavo qualche novità anche su Morgas & Vivi e poi vedere Tic ma vediamo cosa vorrebbe arrivare nell'ultimo capitolo del volume probabilmente il 1085 il finale di Cobra quindi vedremo chi e come quando l'ha ucciso forse Im stesso o forse Im ha ordinato a uno dei Gorosei di ucciderlo quindi il tizio con la spada poi si potrebbe tornare a Egghead dovrebbe mancare pochissimo al famoso giorno X di Egghead poi un colpo di scena su Saturn non mi dispiacerebbe però qui la quote è altissima la più bella della settimana per me è questa qui ma guardo un po' e chi se lo sarebbe mai aspettato volevo mettere la cover però era un po' troppo scontato e per quanto riguarda l'angolo della posta siamo ormai a 40 minuti io prima già ho sbirciato ragazzi siamo già a due pagine di messaggi due pagine due pagine di messaggi quindi qui ci vorrà una live mostruosa praticamente per leggere tutto questo di messaggi del tipo tra incidenti serpenti e pippe mentali quindi io non so neanche pensare dopo anche questo video con queste teorie che ho detto adesso anche la gente come ritornerà sul forum a scrivere commenti in risposta a questo video quindi mi aspetto di tutto di più ci facciamo una bella live con un po' di amaro tutti quanti assieme con l'angolo della posta anche perché alcuni messaggi sicuramente saranno pazzeschi state tirando fuori tante bellissime idee ovviamente c'era anche il discorso della spada la spada famosa che si vede lì a Marigio nella sala di Im che è la spada di Lili ovviamente eccetera fu il momento in cui Lili magari vedendo la scena di Gio poi stava cercando di uccidere Im la spada è rimasta lì e tutte quelle robe cazzo ce ne frega io non che l'idea è sempre un po' quella bene io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando fatevi parlare non percolatemi troppo per questa teoria così stupida vi ringrazio di averci seguito ci vediamo lunedì per l'amaro live per la lettura di tutti questi lunghissimi bellissimi messaggi nel frattempo buon weekend fate i bravi ci vediamo prossimamente ciao